Il signor Barnes, ma dove sta andando? Dunque, vorrei 37 dosi del vostro vaccino per l'influenza. Uno per me, uno per Smithers e gli altri per i miei cani. Gli dia quello che vuole, è l'unico che paga le tasse in questa città. Ma signor sindaco, queste persone hanno aspettato in fila e i cani non contraggono la malattia. Ma mi vedranno prenderlo e lo vorranno anche loro. Sì, è vero, è vero, piccoli zuccherini che lo volete. Signore, forse è meglio andare via prima che la gente se la prenda con lei. Sbrigati e sali, guido io. Fate pressi, guagliù, rotolatevi sulle schegge. Fate come me. Starò bene, così starò bene. No, sarò bene, è vero, sono...